gentili telespettatori buona giornata carlo calenda giorgia meloni dice attento che i tuoi votano per me di che stiamo parlando dice giorgia meloni stai in campana se non metti uno bono me vota pure lui it's all on the room scrive carlo calenda su twitter a giorgia meloni sulle elezioni appunto amministrative a roma la leader di fratelli italia non ha ancora tirato fuori un nome e calenda fondatore di azione scissionista del pd dice io voto te se metti qualcuno bono se no voto lui dice il fantomatico elettore dice hai capito giorgia te lo avevo detto di appoggiarmi dice calenda ecco calenda aveva chiesto a meloni probabilmente di appoggiarlo ma come fa la leader di fratelli italia ad appoggiare carlo calenda scissionista del pd anche se io vi dico carlo calenda secondo me è uno giusto è uno che rivolterebbe come un calzino la capitale subito dalla prima ora che è seduto in ufficio a roma sono sicuro che con calenda ci sarebbe un cambio a roma come se ci fosse sgarbi sugli altri non ve lo so dire nel senso sul possibile candidato molto probabile michetti che è un professore e se non sbaglio un professore no ed è anche un opinionista in una radio 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 a roma ecco sinceramente non lo conosco qualcuno mi dice vai a vederti video su youtube realmente non ho tempo guardate veramente non ho tempo ecco se io fossi uno di quelli che fa un video al giorno di dieci minuti guardate avrei tutto il tempo libero per andare a leggere ascoltare ma non ho tempo non ho tempo il canale mi impegna sei ore al giorno divise in due tre ore la mattina e tre ore il pomeriggio sera in più in mezzo adesso dovrò anche ricominciare ad andare all'università perché proprio ieri mi hanno vaccinato pertanto adesso il semestre finisce il 15 di giugno e l'altro semestre ricomincia il 10 di agosto sotto il soleone con 50 gradi comincia il semestre vabbè insomma ecco ricomincerà in presenza pertanto io la mattina dovrò fare i video poi andare all'università tornare fare i video intanto devo andare a prendere mio figlio a scuola riportarlo a scuola andare eccetera eccetera ecco adesso perché vi stavo raccontando questo non me lo ricordo ah sì perché non ho tempo di vedere i video che fa questo candidato probabilmente per roma enrico michetti però ma comunque sarà uno stimato professionista però è poco conosciuto e la capitale è troppo importante è troppo importante per mettere un nome semi sconosciuto ecco anche se avessero messo me come candidato ma chi è questo non l'ho mai sentito ma chi è ecco anch'io sarei il perfetto ma chi è ma chi è il canale dice ma chi lo guarda youtube ecco insomma non è un nome altisonante io avrei preferito un centrodestra all'appoggio di vittorio sgarbi visto che lui è già sindaco di sutri di un comune questa già come funziona all'amministrazione di un comune io avrei preferito calenda e poi sgarbi altri nomi anche altisonanti bertolaso non so qualche attore famoso sicuramente non so perché la fama non vuol dire che poi sei uno che sa amministrare un qualcosa di così complesso attenzione che diventare sindaco di roma dice io non lo auguro neanche il mio peggior nemico di diventare sindaco di roma vuol dire avere problemi ma qui non ci dormi fare il sindaco di roma neanche ci dormi la notte per i problemi che ha la capitale e poi devi stare attento anche a come ti muovi perché la magistratura è lì che ti guarda così dice vediamo che sta facendo quello che sta dicendo ecco insomma come ti muovi ti muovi sei sotto i controlli e i riflettori pertanto è un bel non so se ne vale la pena io non so quanto guadagna il sindaco quanto guadagna il sindaco di roma per dirvi se ne vale la pena vediamo proviamo a scrivere qua su google stipendio sindaco di roma vediamo se viene fuori se viene fuori qualcosa scrivendo stipendio sindaco di roma allora quanto guadagna un sindaco dice quanto guadagna virginia raggi lo stipendio del sindaco vediamo un po se non sono quei soliti articoli per farti aprire per farti aprire l'articolo e poi tu leggi leggi non c'è scritto mai no e quegli quegli articoli civetta che ti fanno aprire vabbè non si apre comunque vediamo comunque ecco vediamo se mi dice quanto guadagna il sindaco di roma per vedere se realmente ecco vediamo un po dice bla 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 come viene stipendio lo stipendio di un sindaco quanto guadagna un sindaco io ho chiesto qua ecco allora un sindaco che ha da uno a mille abitanti guadagna 1.290 euro un sindaco da mille a 3.000 abitanti 1.450 da 3.000 5.000 2.170 euro da 5.000 10.000 abitanti 2.790 da 10.000 30.000 3.100 euro da 30.000 50.000 3.460 da 50.000 100.000 4.000 130 euro da 100.000 250.000 5.000 e 10 euro da 250.000 a 500.000 guadagna 5.780 con più di 500.000 euro un sindaco guadagna 7.800 euro poi dice che secondo l'ultimo bilancio approvato ci sarà un incremento del 2 per cento pertanto il lo stipendio della raggi dovrebbe essere circa 8.000 euro al mese poi ci saranno anche i rimborsi spesa ecco con i rimborsi spesa andiamo a lo stipendio della raggi a 9.762 euro lordi 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 al mese per un guadagno annuale di 117.144 euro superiore persino a quello percepito dall'attuale presidente del consiglio che però non lo ritira che sarebbe di 114.792 insomma vediamo che comunque lo stipendio di virginia raggi si aggira intorno ai 10.000 euro lordi toglietegli un po di tasse dovrebbero rimanere occhi e croce 6.000 6.500 6.800 euro netti al mese ecco insomma certo che è un bello stipendio comunque 6.000 7.000 euro netti al mese però il lavoro di sindaco di roma non è una passeggiata di salute un deputato guadagna circa 13.000 euro un senatore circa 800 euro in più netto al mese qui siamo già al netto pertanto c'è molta più fatica a fare il sindaco di roma che a fare il parlamentare su questo non ci piove io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata